Buonasera a tutti e benvenuti in questa puntata di Ibridazioni, la rubrica che stiamo conducendo su Cultura, Arte e Media. Questa sera abbiamo come ospite Valentina Tanni, che è storica dell'arte e curatrice, e ci parlerà del suo ultimo libro che è uscito per Nero Editions a luglio, vero? Il 29 luglio è uscito, in questa data un po' strana, perché in realtà doveva uscire a marzo, poi c'è stato questo piccolo inconveniente della pandemia, e quindi siamo usciti il 29 luglio. Bene, quindi freschissimo di uscita, che appunto è Mestetica, che è un libro un po' particolare comunque, perché riguarda principalmente l'estetica contemporanea sulla rete, su internet, e tutti i cambiamenti che ne derivano dal percepire e interpretare l'arte, tenendo dentro tutti i cambiamenti appunto contemporanei che ci riguardano. Stasera con sé appunto ha questo bellissimo gioco Valentina Tanni, che appunto è What do you mean? E quindi a volte ci risponderà, come ci ho già detto dietro le quinte, direttamente con dei meme. Ovviamente ricordo a chi è in chat che si può tranquillamente intervenire, scrivere, salutare, fare domande, eccetera, quindi risponderemo alle domande. E niente Valentina, vuoi presentarti tu, parlarci un po' di quello che fai? Sì, allora come hai detto tu, io di formazione sono una storica dell'arte, in particolare mi sono laureata in storia dell'arte contemporanea, ormai un bel po' di anni fa, però mi sono da sempre interessata sin appunto dai tempi della tesi al rapporto da arte e tecnologia, inteso in senso un po' ampio, e negli ultimi dieci anni invece in senso un po' più specifico di culture del web, e quindi infatti questo libro è un po' il risultato del mio percorso di ricerca in generale da sempre, perché comunque anche la tesi che ho fatto era una tesi sulla net art, quindi insomma parlavamo sempre comunque di culture di rete, però in particolare negli ultimi dieci anni ho cominciato anche a osservare un po' il panorama delle culture amatoriali, di quello che ancora vengono chiamate insomma sotto culture, quando ormai tanto sotto spesso non sono, ormai sono diventate abbastanza centrali nella costruzione della cultura contemporanea, e quindi Meme Estetica, che è il libro che ho scritto, è un risultato di queste ricerche che ho fatto negli ultimi dieci anni sostanzialmente, quindi il libro parla di come è cambiato il mondo delle immagini, di come ci rapportiamo oggi in maniera differente con le immagini, di come tutti quanti partecipiamo più o meno, in maniera più o meno intensa alla costruzione dell'immaginario collettivo, quindi non soltanto fruendo passivamente, ma interagendo con gli oggetti, appropriandosi delle immagini e dei contenuti e modificandoli in tanti modi diversi. Ovviamente all'interno di questo discorso la Meme Estetica riveste naturalmente un'importanza notevole, però nel libro cerco anche di far vedere come, di raccontare come stia emergendo anche una cultura non solo visiva, una cultura in generale che per alcuni versi ci sembra quasi assomigliare ad alcune cose delle avanguardie storiche o anche delle avanguardie più recenti e quindi questo è un altro filo conduttore del libro, cioè a volte ci sembra di trovare online delle azioni che ci ricordano la performance art, a volte sono anche meglio della performance art che vediamo nei musei o comunque delle situazioni che hanno molti punti di contatto con la sperimentazione artistica ad avanguardia come l'abbiamo conosciuta e quindi cerco di raccontare questa cosa facendo dei raffronti e cercando di capire perché c'è questa somiglianza. Immagino che comunque nel tuo percorso, appunto, dato che dicevi che questo libro lo porti avanti da un bel po' di tempo, cioè il percorso si sia evoluto sostanzialmente nel corso di questi ultimi dieci anni, cioè mentre tu l'hai scritto sono successe tante tante cose che hanno modificato sicuramente l'andamento del libro. Decisamente, sì, ma infatti il libro è stato un po' un work in progress, in realtà poi ha preso la forma attuale ovviamente soltanto negli ultimi anni, però è il frutto di una serie di articoli, mostre che ho curato e conferenze che ho fatto e corsi, università, accademie, eccetera, che faccio e quindi tutto l'insieme di queste osservazioni, di queste ricerche, di queste cose che ho scritto poi alla fine ha preso questa forma qui. Come dici te, è vero che stiamo parlando di un panorama che cambia molto rapidamente e quindi è molto difficile fissare la fotografia di un momento perché appena lo dici già alcune cose cambiano, infatti già da quando è uscito il libro a oggi già, per esempio c'è il capitolo in cui parlo di TikTok, comunque delle performance che si, dell'aspetto performativo di alcune azioni su TikTok, ma non solo, anche su altri siti web, però in particolare per esempio già il modo in cui descrivo TikTok già non è più del tutto adeguato a quello che la piattaforma è oggi, per esempio, perché quello è una cosa che io ho scritto osservando la piattaforma ormai, che ne so, due anni fa, tre anni fa, e è vero che, vuoi dire, il discorso teorico credo che resti valido anche perché non dipende tanto dalla piattaforma, perché poi le piattaforme cambiano, se lo chiuderanno ce ne saranno altre, insomma non è tanto una cosa che dipende dalla piattaforma quanto una tendenza culturale poi che si sviluppa nel tempo, però sicuramente è vero che alcune cose sono difficili da fermare perché evolvono a una velocità molto rapida, però credo che ci siano alcune linee, alcuni fini conduttori, alcune riflessioni che possano essere in qualche modo fissate, è quello che ho cercato di fare nel libro. La ricerca è partita nel 2010 quando dovevo curare delle mostre per un festival di fotografia qui a Roma e ovviamente il mio compito era quello di parlare del rapporto tra fotografia e novi media e quindi di fare la mostra, diciamo quella più sperimentale del festival, per cercare di far vedere come la fotografia come linguaggio fosse influenzata dalla presenza non solo delle tecnologie digitali ma soprattutto di internet, quindi questo è stato il primo momento in cui sono stata costretta a mettermi a riflettere sul cambiamento nel mondo delle immagini e naturalmente nel mondo delle immagini la fotografia, intesa in senso molto ampio, è il linguaggio fondamentale, cioè noi conosciamo gran parte delle cose che conosciamo attraverso delle testimonianze fotografiche, però come cerco di spiegare in varie parti nel libro però il nostro rapporto con la fotografia è molto cambiato ed è diventato un po' schizofrenico, ossia da un lato fotografiamo tantissimo, fotografiamo continuamente perché abbiamo la macchina fotografica nel telefono e lo usiamo anche non soltanto per immortalare momenti importanti come facevamo prima, lo facciamo anche per prendere appunti, per fotografare la lista della spesa, per fare tutto quello che ci può essere utile, fotografiamo di continuo anche perché non abbiamo il problema che ti finisce il rullino o hai problemi economi di soldi, se fai più foto o meno foto, quindi abbiamo imparato a utilizzare la fotografia in maniera continua, aggetto continuo. Quindi da un lato lo usiamo, le scattiamo continuamente, dall'altro anche le fruiamo continuamente perché online noi appunto riceviamo una quantità, consumiamo, mi piace usare proprio il termine consumare, consumiamo una quantità di immagini incredibile ogni giorno e la maggior parte appunto della realtà con cui veniamo a contatto è mediata da immagini fotografiche, quindi da un lato non facciamo altro che fotografare e in tanti casi anche esibiamo le fotografie come prova di qualcosa che è successo, quindi come in qualche modo c'è una parte di noi che ancora crede nella capacità della fotografia di raccontare la verità, tra virgolette, comunque di testimoniare qualcosa che effettivamente è accaduto, nonostante appunto ci siano ormai due secoli di storie della fotografia che ci dovrebbero far sospettare che non è proprio esattamente così, però dall'altro lato siamo anche tutti quanti molto consapevoli della manipolazione, perché tutti quanti usiamo, non dico Photoshop che è già avanzato, ma anche i filtri di Instagram, cioè siamo tutti consapevoli del fatto che le immagini possono essere manipolate e con molta facilità e molti di noi lo fanno anche in prima persona, quindi siamo da un lato continuiamo a comportarci come se niente fosse successo, dall'altra però invece siamo molto consapevoli e quindi siamo anche scettici, il sospetto che ci viene sempre che un'immagine sia adulterata è una prova di questa cosa, quindi abbiamo un atteggiamento che secondo me, io nel libro definisco un po' schizofrenico nei confronti delle immagini fotografiche, cioè ci vorremmo tanto fidare della… capito? Siamo consapevoli del fatto che comunque ad oggi parlare di realtà quando si parla di immagini, soprattutto immagini sui social, eccetera, cioè siamo tranquillamente consapevoli che effettivamente quelle stesse immagini non rappresentano la realtà e dall'altro lato ci ridanno un'immagine anche distorta di quella che può… perché interpretandole come la realtà, ovviamente l'immagine che abbiamo della realtà può essere distorta, penso, non lo so, ai fotoritocchi su Instagram che magari appunto possono dare un modello di corpo estremamente perfetto che poi non è assolutamente congruo a quello che è la realtà del corpo stesso e appunto però oggi abbiamo tutti noi gli strumenti per mettere in atto questa trasformazione e appunto le stesse pratiche… vuoi parlarci un po' di pratiche dal basso, pratiche grassroots, come… come diciamo… quindi questa nostra tendenza che è data ovviamente dallo strumento internet e da tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione di facile utilizzo immediato al creare cose nuove remixando insieme anche immagini, video, eccetera, già esistenti. Sì, esatto. Sì, allora questa ovviamente non è, come dire, non è una cosa nuova, ormai l'abbiamo osservata per tanto tempo. Quello che una volta chiamavamo pubblico, ma adesso è un po' difficile chiamare soltanto pubblico, ma diciamo un pubblico che è diventato molto meno passivo del passato interagisce continuamente sia con i prodotti della cultura cosiddetta mainstream, quindi sia con i prodotti che vengono dall'industria dei contenuti e dell'intrattenimento in senso generale, ma anche producono in prima persona contenuti che poi a loro volta vengono remixati dagli utenti. Quindi diciamo che il sistema di costruzione dell'immaginario collettivo è ormai un processo definitivamente liberato, che non è più in mano a un gruppo di persone specifico e specializzato nella creazione di immagini, quindi qualcosa che facciamo tutti quanti, tutti i giorni, continuamente. E questa nuova realtà, nonostante appunto sia ormai neanche più tanto nuova, perché stiamo parlando di un processo che ormai possiamo osservare già da una ventina d'anni. Nonostante questo, a livello più culturale e più ampio non è ancora molto accettato, esistono tanti processi ancora, tanti sistemi che cercano di frenare questo tipo di cose, soprattutto a livello legale, ci sono tutta una serie di problematiche sul copyright, quindi sul riutilizzo delle cose, quando in realtà ovviamente si tratta di una valanga inarrestabile che non può più essere fermata. quindi lo vediamo tutti i giorni, che qualsiasi tipo di contenuto può essere appropriato, modificato, deviato di significato e manipolato. Sia in senso positivo, ovviamente la manipolazione però può anche essere, assumere contorni meno piacevoli. Abbiamo anche visto come le immagini a volte, le immagini anche nel mondo dei meme, esiste un problema anche di manipolazione e di di propaganda e di uso delle immagini in maniera non propriamente positiva e eticamente corretta. Diciamo che la manipolazione ha due facce, cioè da un lato io ho cercato un po' di mettere questa cosa nel libro, che sì, che da una parte è un processo estremamente entusiasmante, io in prima persona sono molto entusiasta di vedere la partecipazione collettiva alla creazione di immagini, è una cosa che secondo me è bellissima. Il fatto che le persone si sentano anche più libere di esprimersi perché vedono che ci sono tante altre persone che si esprimono e quindi in qualche modo dicono ok, posso partecipare anche io, cioè più persone partecipano più le persone si sentono autorizzate a partecipare e hanno voglia di partecipare, quindi questa è una cosa in teoria bellissima, però ha i suoi risvolti, ci sono anche dei risvolti meno, come dire, un po' più inquietanti, esatto, meno più in questo scenario. Certo, perché dipende sempre dalle intenzioni ovviamente di chi mette in pratica quella creazione, chiaramente se il mio intento è fare disinformazione, propaganda, chiaramente ho terreno fertile assolutamente perché appunto il mondo online me lo permette senza nessun problema e senza nessun tipo di conseguenza tra l'altro. Però, cioè, d'altra parte poi magari finisce che condanniamo degli strumenti che ad oggi cioè secondo me sono fondamentali e importantissimi proprio per la nostra esperienza su internet. Sì, guarda io vorrei fare un attimino un passetto indietro appunto, cioè proprio per partire alle radici, per arrivare, cioè arrivare alle radici del libro e quindi appunto spiegare il perché del settembre eterno. Ah, ok. Quindi, appunto, perché settembre eterno e come si collega a tutto poi il discorso del libro, che segui durante il libro. Ok. Ok. Allora, lei è molto rappresentante, lei si chiama Disaster Girl ed è una, uno dei miei mini template preferiti, sì, assoluto, e abbastanza appropriata per il discorso che stiamo facendo adesso. Dunque, il settembre eterno è, tra l'altro lo spiego nelle prime pagine del libro, è un'espressione che è stata coniata nel 1994 da una persona che si chiama Dave Fisher, un videoartista e fotografo statunitense, su un forum di Usenet, quindi siamo in epoca pre-web, diciamo esisteva internet ma non esisteva ancora il worldwide web e non c'era, come dire, il web come lo conosciamo oggi, per cui venivano molto utilizzate queste bacheche, che diciamo che erano come dei forum sulla rete Usenet. All'epoca praticamente accedevano alla rete quasi soltanto gli studenti universitari, cioè quindi la maggior parte del popolo di Usenet era composto da universitari e di conseguenza ogni settembre, quando cominciava l'anno accademico, entrava un nuovo gruppo di utenti dentro la rete, dentro Usenet e su queste bacheche di discussione. Questo creava ovviamente, da un lato appunto portava nuove energie, nuove menti, nuove situazioni, dall'altra però creava anche sempre un po' di scompiglio perché queste nuove persone non erano, non conoscevano quella che all'epoca si chiamava la netiquette, non sapevano bene come si dovevano comportare, spesso appunto facevano domande inopportune, non sapevano come utilizzare le cose e così via. Cioè erano i novellini della situazione e quindi chi si trovava già all'interno della rete da un bel po' era in genere un po' scorciato da questo momento di disruption che portavano questi nuovi utenti. E questo procedeva ogni settembre. Nella fine del 1993, nel settembre 1993, America Online, che era l'unico provider all'epoca, quindi l'unica azienda da cui potevi comprare l'accesso a Usenet, decide di metterlo a disposizione di tutti a pagamento, quindi chiunque poteva accedere. Da quel momento in poi, appunto, chiunque volendo poteva collegarsi e quindi questo Dave Fisher scrisse in un messaggio su Usenet rimasto ormai nella storia, ed è lì che appunto io ho tirato questa espressione, poi l'ho utilizzata come filo conduttore simbolico del libro, lui scrisse che il settembre del 1993 passerà alla storia come il settembre che non è mai finito. Perché essendo, appunto, avendo aperto le porte a potenzialmente a chiunque, anche se all'epoca stiamo ancora parlando di una quantità ridicola di persone, però per dare dei numeri nel 1995 era collegato online tipo l'1% della popolazione mondiale, adesso siamo oltre il 60%, quindi per dire come è cambiato anche numericamente il pubblico, delle persone che partecipano. E quindi ovviamente che cosa simboleggia questa cosa del settembre eterno? Simboleggia l'accesso, il concetto di accesso, che è un concetto che io cerco di articolare nel libro in maniera molto estesa, quindi accesso ai contenuti, ma anche accesso ai mezzi di produzione, ai mezzi di distribuzione e anche accesso al dibattito e quindi alla collaborazione con gli altri, quindi anche accesso alla comunità, questo tipo appunto di progetto porta a una modifica radicale del funzionamento del sistema cultura in qualche modo, quindi piano piano questo flusso di utenti è diventato una specie di tsunami con passare degli anni sempre sempre più imponente e ha messo in crisi il sistema della cultura come lo conoscevamo, che era un sistema culturale in cui c'erano i cosiddetti gatekeeper, cioè quelli che controllavano, in qualche modo decidevano che cosa doveva essere pubblicato, che cosa arrivava appunto nelle librerie, nel cinema, che cosa dovevesse essere conservato e passato ai posteri e quindi anche le estetiche e i gusti del pubblico erano abbastanza orientati dall'alto, questa cosa pian piano cambia radicalmente e quindi oggi anche se esiste ancora un sistema, come dire, un'industria culturale come c'era prima, ma è stata, come dire, è da una parte, nel suo potere da una parte è stato minato dalle culture amatoriali, dalle culture comunque che arrivano dal basso e dall'altra comunque quelli più furbi sono stati costretti a dialogare con il pubblico, con i fan, con gli utenti eccetera e quindi molto spesso vediamo che si instaura anche un dialogo e un scambio tra chi crea, che ne so, per esempio una serie tv o un film eccetera e la fan base che interagisce, cambia, chiede, produce versioni derivate eccetera quindi sono costretti in qualche modo a innescare una conversazione a cui prima potevano tranquillamente sottrarsi invece adesso nel bene e nel male non possono più. Sì ma poi erano anche, cioè prima erano anche loro in un certo senso che decidevano cosa era cultura, cosa era arte e cosa no cioè c'era un confine molto netto tra cosa poteva essere distinto e considerato come arte e cosa invece non poteva essere considerato, a cui non poteva venire dato quel prestigio tale da considerarlo arte invece appunto oggi vediamo come non esistendo più le categorie fisse di pubblico e artista non si possa più decidere cosa effettivamente sia considerato arte e cosa sia l'artista e cosa sia anche l'esperienza artistica in sé Sì, questa è una cosa, come dire, un punto molto dibattuto sul quale io cerco di spingere un po' le mie idee su questa cosa nel libro ma non è che ci sia un grande accordo su queste questioni perché ora faccio riferimento in particolare alle arti visive che è il mondo che conosco meglio però non è un discorso che riguarda solo le arti visive ma si potrebbe allargare anche da altri settori artistici di pari importanza però per fare un esempio, nel mondo delle arti visive c'è un sistema molto strutturato che non prende in considerazione soltanto ovviamente la qualità delle opere spesso ma anche tutta una serie di situazioni che riguardano appunto il sistema quindi riguarda le dinamiche di potere, dinamiche di prestigio e dinamiche economiche poi nel caso delle arti visive esiste anche il fattore del mercato che è molto pesante, pesa molto nell'equazione finale perché come sapete a differenza di altri mercati della cultura il mercato dell'arte si basa sulla scarsità e quindi sulla vendita di pochi oggetti molto costosi, molto rari mentre magari altre industrie si basano sulla vendita di tantissime copie di uno stesso oggetto invece il sistema dell'arte ha questa cosa qui quindi il sistema ha tutto l'interesse di conservare la sua struttura quindi sia le dinamiche di potere, cioè chi sceglie cosa e questo da una parte per mantenere l'elite, per mantenere il prestigio per mantenere la posizione ma dall'altra anche per mantenere in piedi il sistema del mercato perché il mercato poi anche se anche lì ci sono dei meccanismi di speculazione che hanno poco a che fare con l'arte in sé però diciamo che anche lì il mercato si basa poggia i suoi piedi anche su un sistema di accreditamento generale che è fatto dal sistema curatore, galleria, museo e artista quindi diciamo che è come se ci fosse una divisione del lavoro quindi ognuno deve fare il suo ruolo affinché tutto quanto il sistema funzioni quindi diciamo che da un lato c'è il sistema dell'arte che ha le sue ragioni non solo economiche ma anche diciamo proprio di sua struttura quindi ha una sua volontà di auto perpetuarsi e dall'altro però esiste una realtà che non possiamo più ignorare quindi questo è sostanzialmente quello che cerco di dire nel libro che sì, non sostengo che dentro i musei non ci sia più niente interessante però sostengo che dobbiamo prendere atto del fatto che ormai in questo momento storico non possiamo guardare solo quello che c'è dentro gli spazi istituzionali perché le cose succedono tantissimo anche al di fuori è sempre successo, poi non è una cosa completamente nuova perché la cultura underground non è che è nata oggi ci sono sempre state però erano cose che non avevano la difficoltà l'intensità e la forza e soprattutto il numero di adesso quindi ormai è diventata talmente un'ondata inarrestabile e incontenibile che credo sia arrivato il momento di farci conti quindi di accettare il fatto che l'arte possa manifestarsi anche al di fuori del sistema e che di conseguenza possa anche essere diventato un linguaggio di espressione diffuso che è arrivato anche in parte in mano alle persone e questo tra l'altro appunto osservando anche che molti progetti che nascono spontaneamente in rete magari ci fanno pensare all'arte concettuale o alla performance art è vero che spesso sono somiglianze non consapevoli nel senso che spesso non c'è una filiazione diretta non è che queste persone stanno cercando di emulare l'artista famoso anzi spesso non lo conoscono nemmeno quindi non sanno qual è la fonte ma il fatto che spontaneamente nasca quel tipo di linguaggio significa che l'atteggiamento creativo l'atteggiamento artistico la tendenza a incorporare nella vita il gesto artistico è qualcosa che si sta diffondendo in maniera più ampia tra le persone e quindi alla fine anche un'altra cosa che a me sembra molto interessante è il fatto che la parte interessante da parte mi fa un po' incazzare il fatto che le avanguardie ma non solo le avanguardie anche l'arte relazionale che è nata nella metà degli anni 90 ci ha fatto una testa così sulla partecipazione dello spettatore su l'abbattimento dei confini tra arte e vita su l'inclusione del pubblico nell'opera su l'interattività portiamo le persone dentro abbattiamo i confini eccetera però poi quando questa cosa succede veramente no, non va bene queste cose non sono non possiamo considerarle arte perché sono dei comportamenti casuali non sono consapevoli oppure perché non sei stato accreditato non ti conoscono non hai tutto un sistema che ti sostiene eccetera eccetera e di conseguenza a me mi ha sempre fatto un po' mi ha sempre dato un po' fastidio è stata una tra l'altro delle molle che mi ha portato a scrivere il libro questa cosa che appunto adesso che finalmente in qualche modo vediamo l'arte nella vita quotidiana fatta a volte male a volte bene non sempre in maniera però come succede in tutta l'arte anche quella dei musei quindi a volte in maniera più riuscita a volte meno però vediamo questi comportamenti spontanei di espressività e di performatività nelle persone tra virgolette comuni nel senso che non si identificano come artisti non si autodanno questa etichetta però allo stesso modo si comportano come dei performer si fanno dei gesti che sono in tutto e per tutto dei gesti di arte concettuale e quindi infatti tra l'altro in questo ho ritrovato ho riletto un testo interessantissimo di Maurizio Calvesi che si chiama Avanguardia di Massa in cui sia Calvesi sia Umberto Eco che viene citato a sua volta da Calvesi dicono proprio questo però ne parlano in relazione ai movimenti del 77 infatti Avanguardia di Massa si riferiva a questo e loro avevano identificato soprattutto Eco lo descrive molto bene proprio questo processo cioè lui dice se i linguaggi che venivano considerati validi in una come dire come proposta di laboratorio dice lui quindi a livello del tutto astratto e ipotetico come ipotesi a livello e adesso che vengono che sono stati calati nella vita quotidiana e le vedono in mano le persone in bocca le persone non le riconoscono più e li rifiutano quindi questa cosa già era stata un po' anni fa e secondo me adesso questa situazione si è fatta ancora più evidente poi è chiaro che come dire non è che tutte le espressioni che sono dal basso sono necessariamente interessanti tutte quelle che sono dall'alto non lo sono ovviamente non è così anche che non è così che funziona l'arte in generale insomma no? Credo però quando ci troviamo di fronte a delle cose che troviamo anonime online però che hanno tutte le caratteristiche di un progetto artistico però non si sa chi l'ha fatto non si sa come non c'ha magari c'ha un nome utente xy eccetera e quindi questo lo come dire lo scredita a prescindere no? Sì e ci sono stati vari commenti su tutto questo discorso che abbiamo fatto ne andiamo a leggere qualcuno volevo chiedere scusa a chi è in chat per il lag che appunto è causa mal tempo speriamo che appunto migliori nel frattempo però purtroppo qui c'è la tempesta e da oggi ovviamente stasera doveva andare si è presentata così ecco ecco sì perfetto noi e il resto sì allora allora c'era Federico che ci dava Walter Benjamin l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica poi sulla questione industria culturale profondirei il discorso di Raffaele Alberto Ventura ciao Fedemira ciao Fedemira poi ciao Marti Pizzi abbiamo finalmente raggiunto l'utopia avanguardista l'arte compenetra la vita appunto come diceva poi Valentina che ci riportava alle utopie esatto le utopie avanguardiste artistiche che appunto spingevano per questo processo e non conosco il discorso di Raffaele Alberto Ventura sull'industria culturale cioè in che senso quale quale nello specifico ne ha fatti diversi quindi se vuoi approfondire su questo assolutamente siamo qui il sistema dell'arte contemporanea ha paura della democratizzazione dell'arte ok si ma come tutti i sistemi funziona come un sistema ci sta una una citazione nel libro che mi piace un sacco di Alvin Toffler che tra l'altro è quello che ha coniato il termine prosumer che unisce producer e consumer però al di là di questa cosa per cui è diventato famoso in realtà lui ha scritto un sacco di cose anche molto più interessanti secondo me e ho trovato un testo che si chiamava The Cultural Consumers del 1964 in cui lui addirittura paragona il circolo degli amanti dell'arte quindi il sistema dell'arte al sindacato degli idraulici e lui dice l'attacco al mondo degli amatori come l'attacco al consumatore di cultura è basato più sulla paura che sui fatti i colti amanti dell'arte di lunga data che hanno a cuore la propria anzianità come i membri del vecchio sindacato degli idraulici temono i nuovi arrivati gli è stato detto che sono un'elite e che l'elite ora è minacciata così attaccano sempre attenti a sottolineare come il loro scopo non sia la conservazione di un privilegio ma la difesa dell'eccellenza e questo è un discorso e questo è un discorso questo è un testo del 64 tra l'altro un testo molto specifico che parla della situazione degli Stati Uniti quindi è un testo un po' specifico su quel mondo lì però lui già identificava il fatto che il sistema dell'arte resistesse non soltanto tra l'altro qua neanche parlava tanto degli amatori in senso di creazione parlava proprio dei consumatori di cultura quindi parlava del fatto che addirittura non solo non volevano che ci fossero artisti tra virgolette dal basso non volevano neanche che aumentasse il pubblico degli amatori dell'arte perché doveva essere un'elite capito quindi e questo è anche molto azzeccato il modo in cui descrive nell'ultima parte il modo in cui questo atteggiamento viene giustificato cioè loro ti dicono sempre no ma io non sto conservando un privilegio cioè il mio non è un modo per conservare il mio status io voglio difendere la qualità e l'eccellenza e questa è una cosa è un'argomentazione che è tuttora utilizzata per appunto per difendere questo questo baluardo no ma in realtà non è così anche perché poi il concetto di qualità in arte cioè ci potremmo aprire un'enciclopedia non è che l'arte è un prodotto non possiamo parlare di qualità è un'altra cosa a cui tengo un sacco cioè non mi piace proprio usare questo aggettivo per semmai possiamo parlare di intensità possiamo parlare di efficacia possiamo parlare di poesia ma certo non di qualità no infatti cioè non è sicuramente la qualità che determina un'opera artistica ecco come la misuri la qualità cioè puoi misurare la qualità di un prodotto ma non puoi mai come la misuri qual è il parametro capito non sai si tra l'altro in chat abbiamo un mematore a proposito di ah bene si che appena ha fatto un meme stiamo cercando di trasmetterlo si se riesco in qualche modo ok potete comunque capirlo dalla ci ha appena memato ottimo che è il nostro mematore ufficiale del canale tra l'altro vorrei dire dov'è eccolo ok riusciamo ad aprirlo ecco riusciamo a trasmetterlo un attino ok perfetto ok lui mema compulsivamente ah volevo mandare il link del il link del libro che ovviamente non ho mandato si giusto un attimo ok eccolo ecco da qui potete vedere il libro e acquistarlo eventualmente ah poi il il sito di Valentina si si magari anche quello The Great Wall of Meme di cui magari adesso vi parlo un attimo ah si si eccolo eccolo qui perfetto ok il libro comunque è questo adesso lo faccio abbiamo anche qui noi abbiamo belle è una bella copertina non so se avete presente il mediodatto Love Cat eccolo qua è lui una delle tante creature mostruose concepite dal web o comunque da errori non voluti da insomma si e ditemi voi ah no appunto stavi dicendo Great Wall of Memes ah si si allora c'è questo sito che si chiama Great Wall of Memes ed è uno dei dei servatori di ricerca da cui il libro nasce soprattutto per quanto riguarda le immagini allora io l'ho da poco da poco rifatto il sito l'ho migrato perché prima stava su Tumblr ho fatto questo errore madornale all'epoca perché non c'avevo tempo l'ho buttato su Tumblr poi ovviamente ho dovuto migrare tutto anche perché poi a un certo punto uno non mandava di tenerlo su una piattaforma ma così proprietaria anche perché l'archivio stava diventando molto grande quindi insomma volevo avere più controllo e poi perché come ben sapete un paio di anni fa Tumblr ha messo ha messo questa questo filtro per automatico che cerca di togliere tutti i contenuti che lui pensa che siano sessuali però non ci azzecca granché e quindi leva un sacco di roba che non c'entra niente e quindi mi sono trovata anche tantissime immagini censurate che non erano assolutamente minimamente minimamente zero proprio presa a caso questo sempre per il discorso dell'intelligenza artificiale che ancora è un po' è molto più primitiva di quanto non si pensa comunque adesso appunto l'ho migrato adesso sto ancora caricando perché i contenuti che poi effettivamente ho sono molti più di quelli che sono online però insomma ce ne sono già una buona quantità questo è un progetto che è nato nel 2014 la prima volta perché ho cominciato a o 13 forse più o meno in quegli anni ho cominciato a collezionare meme collegati in qualche modo al mondo dell'arte quindi meme fatti con le opere d'arte opere d'arte mesciappate con altre cose e cose simili quindi riutilizzo remix e manipolazione più o meno legata al mondo dell'arte poi però questa cosa si è anche un po' estesa e ho cominciato a collezionare anche tutta una serie di altre immagini che non sono proprio semplicemente meme fatti con le opere d'arte ma sono anche immagini che invece sono di per sé secondo me delle opere d'arte più o meno volontarie e quindi ho cominciato a collezionare tutta una serie di immagini che in qualche modo secondo me erano molto significative per descrivere un certo tipo di estetica che c'è adesso online e questo database di immagini che cresce ancora e continua a collezionarle a catalogarle tra l'altro se volete volete finirlo nel modo corretto dovete andare nel link dove c'è scritto tag list e navigare per tag perché quella è la cosa più interessante perché cliccando sui vari tag vedete perché le immagini sono categorizzate in un certo modo e quindi tutti quelli che sono i fili conduttori naturalmente più il tag è grande più sono numerose le immagini e lì potete vedere clicchi su Munch vedi tutte le modifiche dell'urlo di Munch oppure vai sul link food e trovi tutte le foto che riguardano il cibo e così via come fonte di ispirazione molto blanda perché è un progetto che poi alla fine è molto diverso però io sono sempre stata una fan di Abbie Warburg dell'Atlante Memosine di Abbie Warburg e quindi mi sono ispirata a questa idea di studiare la cultura visiva utilizzando le immagini e confrontando le immagini tra di loro e vedendo anche come un'immagine cambia nel tempo e come viene modificata in maniera diversa come migra da una parte all'altra eccetera eccetera quindi questo è il mio serbatoio visivo per poi che poi osservando e catalogando questo sono uscite fuori le riflessioni del libro alla fine e guardate invece nella link installations che c'è dentro vedete che questo progetto è diventato anche un muro vero un sacco di volte l'abbiamo installato come muro vero quindi abbiamo attaccato migliaia di immagini su vari muri in giro per il mondo la prima volta a Milano poi l'abbiamo fatto con installazione a Lubiana tra l'altro a Lubiana all'interno della mossa che si chiamava Eternal September che è la mostra da cui poi nasce il titolo del libro e l'abbiamo portato in Russia l'abbiamo portato a Madrid in Svizzera insomma in un sacco di posti e in quelle situazioni abbiamo allestito un muro dei meme diciamo fisico e anche quella è stata un'esperienza molto interessante sia perché abbiamo provato varie configurazioni vari modi sia perché abbiamo testato anche le reazioni del pubblico e quindi è stata anche una situazione interessante per discutere poi con il pubblico delle varie mosse dei vari eventi poi è sempre in realtà poi è una cosa che non si dovrebbe fare perché non si dovrebbero commentare i meme o spiegare i meme non si fa l'hai visto questo il meme di senatore fatto ora freschissimo ah grazie bello dopo li voglio tutti sì 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 perfetto entreranno nel world of memes sì aspetta lascialo un attimo là sì e faccio un po' di screenshot scusami ok ok no ma non lo vedo più non lo vedo più però la ricomparirà ora ricomparirà ok 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 eccolo ci sono posta tutti i link nella chat quindi puoi anche recuperarli originali ecco sì adesso vado un po' a vedere eh sì il mondo del porno si è impoverito dopo lo scisma è così ah volevo ringraziare Alessandra che si è sabbata credo al canale sì quando eravamo offline quindi grazie mille grazie per la sub grazie per il supporto al canale grazie mille non ce l'ha mai capitato offline quindi siamo rimasti un po' così e quindi vabbè diciamo che anche questo momento fondamentalmente c'è un processo collettivo di creazione e anzi soprattutto Twitch almeno per come l'abbiamo sempre concepita noi dal dal principio è sempre stata un continuo scambio ecco con il pubblico in quel momento che poi pubblico appunto non lo è più nel momento in cui partecipa attivamente alla creazione cioè ad esempio ci sono i show interamente basati sull'interazione col pubblico cioè nel senso io mi metto lì davanti alla webcam senza dire nulla e costruisco l'intrattenimento con chi è in chat quindi lì sono io che sto facendo lo streaming o chi è in chat sta riempendo quello streaming con i suoi contenuti comunque è capace di dirottare in qualche modo appunto l'andamento della live che poi piano piano prende piede diventa si trasforma nel divertimento generale di tutte e tutti insomma quindi domanda seria non so se è stata fatta o toccata l'argomento ma quanto è importante la riproducibilità del meme nella sua fenomenologia perché io trovo che ne sia una delle cose più particolari riguardo a questo fenomeno si infatti tra l'altro tu quando parli dei meme poni molto l'accento sul loro carattere virale ecco di diffusione quindi questo è l'aspetto principale almeno per come ho percepito io che vuoi cogliere e vuoi mettere in luce sì sicuramente come dire la capacità di circolazione virale è un elemento importante in generale per come funziona la diffusione dei contenuti in rete però è anche vero che il meme ha questa caratteristica rispetto a un contenuto virale qualsiasi il meme ha questa caratteristica di non riprodursi identico a se stesso ma di subire delle variazioni e quindi in realtà la cosa estremamente interessante del mondo del meme è che sono una gigantesca conversazione e che nessun meme cioè difficilmente puoi capire può succedere però diciamo il meme diventa interessante quando non come artefatto singolo ma come sistema no? cioè quando nasce un meme e diventa un meme molto utilizzato ne vengono fatte talmente tante versioni ognuno fa la sua ognuno dà la sua interpretazione che da un lato è commovente la creatività voglio dire anche la capacità delle persone di piegare i contenuti ha significati sempre diversi la trovo una cosa interessantissima e poi è anche interessante vedere il processo nel suo complesso a me a volte mi chiedono ma questo meme un meme può essere un'opera d'arte io dico sempre a parte qualsiasi cosa può essere un'opera d'arte però al di là di questo non è secondo me tanto interessante il meme singolo quanto interessante il sistema dei meme cioè è un'opera d'arte collettiva continua cioè un processo di creazione collettiva totalmente spontaneo non regolato che produce poi dei risultati che sono estremamente interessanti da un punto di vista a volte anche raffinatissimi nel modo in cui i contenuti vengono mescolati nel modo in cui vengono immagini e testo vengono mescolati insieme e poi c'è questa cosa anche molto ludica l'aspetto ludico dei meme è una grande forza mentre viene considerato spesso viene utilizzato come appiglio per chi li vuole criticare dicendo è soltanto una cosa per ridere ma a parte il fatto che la risata è sempre stata un la risata il divertimento e l'aspetto ludico un elemento essenziale della natura umana e spesso anche un modo in cui noi riusciamo ad esortizzare cose molto serie e a discutere cose molto serie quindi in realtà ci andrei anche piano nel liquidare la comicità e l'ironia e l'aspetto ludico come qualcosa di poco rilevante e questo è un dato ma non solo ma invece i meme hanno questa capacità di utilizzare di sfruttare anche l'aspetto più divertente in maniera molto molto stratificata molto interessante molto intelligente e poi ci sono anche tanti meme che non fanno ridere per niente e che hanno tutta un'altra intenzione quindi c'è anche un altro aspetto da considerare quindi un'altra cosa che mi trovo a dire spesso è che è anche difficile dare una definizione univoca del meme cioè è un'entità talmente mutevole che è anche molto difficile ci sono mille generi che non si somigliano per niente l'uno con l'altro oggetti che in qualche modo si somigliano nella dinamica con cui si creano e si replicano ma poi magari a livello estetico di significato e di mood sono oggetti molto diversi in chat sono molto interessati ai tuoi meme stampati si potete acquistarli penso c'era anche un altro meme di senatore un altro per te ok allora beh comunque questo è i meme stampati vengono da questo gioco che mi hanno regalato e con cui ancora non ho avuto modo di giocare non lo farò presto che si chiama what do you mean questa è l'edizione UK credo ci sia solo UK e USA credo e contiene praticamente una serie di cartoline così dove ci sono delle fotografie che fanno da base per la creazione dei meme ce ne sono tantissime e poi ci sono delle carte con dei testi ok e quindi devi associare i testi alle immagini per creare dei meme e poi ci sta un giudice che decide quali sono quelli migliori tipo Cards Against Human per la versione meme esatto esatto ok sono molti così insomma sono molto belle c'è anche soltanto così e quindi oggi mentre mi preparavo mi è venuto in mente che avevo queste queste card in giro perfette perfette per l'occasione il povero meme del pepe the frog dato che chiedevano in santo chiedevano questa cosa cosa ne pensi dei meme o meglio delle basi dei meme ormai corrotti dalla visione politica che ne è stata attribuita tipo appunto pepe the frog tipo pepe the frog allora questo è il risvolto di cui parlavamo prima che a volte non è proprio positivo in tutta questa situazione è che la manipolabilità dei simboli implica anche il fatto che i simboli possano essere appropriati e utilizzati per scopi del tutto diversi rispetto a chi l'aveva concepito il povero Matt Fury che è quello che ha creato pepe the frog ha addirittura fatto causa a una serie di persone per cercare di ostacolare l'utilizzo di pepe the frog per fare propaganda dell'alt right ma si ha vinto pure qualche causa ma insomma non è che poi sia stato è stato rilevante a livello simbolico ma non è poi ma poi di fatto non si può fermare il processo comunque no no infatti quindi da un lato come dicevamo prima da un lato questa cosa che tutti possono fare tutto è molto entusiasmante dall'altra tutti possono fare tutto è pure pericoloso cioè senza altro è così quindi io da da persona di sinistra ovviamente sono molto costernata da alcune cose che a volte mi fanno impressione mi fanno schifo quindi però mi rendo conto che la manipolazione delle immagini la manipolazione dei simboli non è qualcosa che puoi direzionare più di tanto quindi dobbiamo ovviamente siamo già rassegnati all'idea di dobbiamo memare dalla sinistra come dico no mentre quelli dicono dell'excent meme e noi dobbiamo dire no cazzo memiamo è anche meglio di voi ecco la sinistra sa memare domanda domandone tutta l'estetica comunque che poi si è costruita la sinistra ecco appunto forse questa è perfetta per rispondere poi alla fine Matt Fury l'ha fatto ha celebrato il funerale di Pepe de Frogger proprio per simbolicamente farlo fuori dire beh basta adesso è morto però però non è non è stato abbastanza appunto ormai guarda dopo che dopo il tweet di Donald Trump con la faccia di Pepe de Frogger è finito ce lo siamo giocato Pepe de Frogger non possiamo più tornare indietro da quella cosa lì credo sì sì infatti perfetto questo è proprio wild totalmente ultra wild poi dopo ci arriviamo al concetto di wild sì appunto dobbiamo weird dobbiamo riportare no dobbiamo il giornale esatto wild sì weird senza la e i vabbè sì sono anche le nostre origini meridionali insomma a fare la loro parte dobbiamo riportare la sinistra negli stati popolari nelle fabbriche nelle periferie tra i mematori per esempio la definizione di meme di Limor Schiffman sì la cito anche nel libro è sicuramente un'ottima definizione e quello è un ottimo libro la sta mandando anche in shot tra l'altro Enigas e Luce grazie bellissimo nickname cioè tra l'altro a parte di me anche i nickname poi diventano meme perché almeno qui da noi ne leggiamo di tutti i tipi e ci divertiamo ogni volta un altro fenomeno che mi piace tantissimo che l'ho visto la prima volta su tiktok però anche su youtube ci sta un sacco praticamente ci sono anche dei meme testuali che attraversano i commenti dei video non so se lo avete mai notati e vanno a ondate nel senso che a volte ci sono dei trend a volte ce ne sono altri c'era un periodo dove su tiktok c'erano questi commenti bellissimi che erano tutti quanti surreali basati su una visione surreale e completamente nonsense ed erano tutti tipo tra l'altro commentando a caso sotto un video magari di queste qui che fanno i balletti video virali con tantissime visualizzazioni di questi influencer di tiktok che hanno milioni di fan eccetera quindi su un commento random che dice tipo quando sono solo a casa e mi sento solo faccio finta di essere una carota tipo e mi seppellisco in giardino poi c'è un altro sotto che dice ah quando sono da solo a casa faccio finta di essere una cannuccia tipo e mi metto dentro la mano tutto è così no? io faccio finta di essere una carota e mi metto in mezzo due sette di pane quindi su tutte queste e questo tra l'altro questo tipo di amore per il nonsense eppure un'altra cosa estremamente interessante e molto diffusa che c'è in rete che appunto abbiamo amato e tuttora amiamo nell'artivisive nel cinema nella letteratura poi però quando lo vediamo così in the wild magari non lo riconosciamo o lo rifiutiamo infatti c'è questa nel libro cito vi consiglio di leggerlo un testo di un studioso di poesia che si chiama Darren Werschler che ha coniato la definizione perfetta per queste cose che si chiama conceptualism in the wild che vuol dire concettualismo selvaggio e lui praticamente ha cominciato a notare questa cosa un po' di anni fa riguardo alla poesia e alla letteratura e dice io vado in giro in rete e su twitter trovo un'opera d'arte di poesia concettuale di poesia concreta trovo un'opera d'arte appunto un'opera letteraria d'avanguardia però magari fatta a caso da una persona su twitter o su youtube eccetera però quella per me a tutti gli effetti una poesia una poesia contemporanea come la definisco questa cosa lui dice lui la definisce concettualismo selvaggio quella è un'opera d'arte concettuale selvaggio nel senso che la trovi in un ambiente che non è addomesticato quindi non è l'ambiente del museo non è l'ambiente dell'industria editoriale eccetera e questo succede continuamente con il concettualismo selvaggio siamo pieni di gesti concettuali come quello che ha fatto il crowdfunding per finanziarsi un'insalata di patate e ha messo insieme centinaia di migliaia di dollari non si è capito come ci sia riuscito ecco cioè perché quella sua azione sia diventata virale cioè questo è completamente nel senso perché spesso in rete diventano virali le cose più stupide stupide da virgolette nel senso più quelle che hanno diciamo meno senso in qualche modo perché la gente si diverte a partecipare a queste cose quando lui ha fatto la pagina con scritto su kickstarter poi quindi nel sito tempio delle start up in cui vanno a farsi finanziare progetti di alta tecnologia cose fighette eccetera lui ha fatto una pagina ha scritto voglio fare un'insalata di patate mi servono 8 dollari e la gente ha cominciato a fare un'insalata di divertimento e piano piano ha guadagnato una quantità di soldi assurda e lui stesso era sconvolto però la gente si divertiva a partecipare a questa cosa assurda come pure quella dell'uovo su instagram c'è stato un periodo in cui la foto con più like in assoluto su instagram era la foto di un uovo quella voce no? proprio totale espressione di quello che diciamo l'amore è un testo completamente il surrealismo totale proprio vabbè c'era Enigas e Luce sempre che ha riportato la definizione la leggiamo suggerisco di definire un meme di internet come un gruppo di oggetti digitali che condividono caratteristiche comuni di contenuto forma e intento B creati con la consapevolezza gli uni degli altri C che circolano vengono imitati e o trasformati attraverso internet da molti utenti credo che sia una definizione assolutamente il testo di Limor-Shifman è molto interessante molto preciso nelle varie definizioni e tra l'altro è stata anche una delle prime a sottolineare il fatto che cioè a cercare di ridimensionare poi l'hanno fatto molti anche in seguito ridimensionare questa diciamo il peso del concetto di viralità inteso come contagiosità cioè a ridimensionare a dire ok sì è vero che vanno virali e quindi la metafora del contagio è efficace perché sembra che veramente te lo trasmetti come il raffreddore però in realtà lei dice ridimensioniamo questa cosa perché non è che va virale da solo cioè ogni condivisione è frutto di una scelta quindi la volontà del singolo utente di partecipare a un processo soprattutto nel caso di meme che non è soltanto un forward è mi scarico l'immagine e la modifico quindi c'è anche un processo di aggiunta delle proprie cose nel processo non può essere considerato semplicemente una cosa che così un virus della mente c'era un periodo in cui si parlava dei meme e delle immagini virali come virus come se fosse una cosa che te la prendi così non volendola quindi in questo senso anche il libro è uno dei tanti meriti di quel test sì quindi concepirli ovviamente come un processo e non cioè in cui siamo direttamente partecipi e non come qualcosa che ci coglie e boh siamo impreparati totalmente lo sobbiamo passivamente ecco ed è anche la differenza principale con la memetica di Dawkins dice sempre Annie ovviamente il concetto della memetica si traricorda molto impagliata perché poi c'è da dire che questa collezione ovviamente di immagini che sta dentro questo gioco è leggermente datata quindi deve avere un po' di storia delle immagini memetiche perché sono un po' il baby dancing il baby dancing che appunto citi nel libro si proprio uno dei primi esempi di viralità ecco online questo bimbo ballerino la gif del bimbo in pannolino che balla che però nonostante sia uno dei più vecchi è uno dei più longevi lo trovi ancora come gif animata in un sacco di posti e ha resistito tantissimo al tempo io lo vedo tantissimo usato per esempio su instagram come gif quindi ha avuto una vita molto lunga oltre a essere comparso in un sacco di prodotti anche mainstream tipo Ellie Mcbill tipo i simpson e altre cose è passato anche è stato talmente diffusa la sua insomma è stato talmente diffusa che poi ha separato anche il processo dei meme comunque cioè alla fine un meme nasce si diffonde poi teoricamente muore perché viene sostituito da almeno nell'utilizzo ecco poi ovviamente può capitare sempre che alcuni meme vengano ripresi dopo tanto tempo perché appunto sono comunque su internet sono lì e sono sempre a disposizione di tutti quindi chiaramente è bellissimo questo lo hai sempre nei commenti perché c'ha una faccia troppo espressiva estremamente però è vero hanno un ciclo di vita è vero hanno un ciclo di vita che in genere tra l'altro ci sono degli studi su questa cosa molto precisi con dei grafici insomma io non sono però chi studia queste cose anche scientificamente a livello di diffusione e di circolazione si vede proprio che ci sono per i meme più popolari ovviamente alcuni non riescono a superare una certa soglia però per quelli che diventano veramente molto popolari c'è proprio una curva precisa cioè fanno un picco assoluto vengono utilizzate per tantissimo poi piano piano cominciano a decrescere e a volte hanno delle improvvise punte a caso perché magari la condivisi una persona molto famosa quindi hanno un momento di vengono ripescati in qualche modo ma adesso ultimamente esiste anche l'ho già notato in un po' di situazioni online siamo già nella fase in cui il meme ha talmente tanta storia ormai perché poi ormai su internet c'è 15-20 anni è un sacco di tempo che si comincia anche a lavorare sul vintage tra virgolette quindi ho visto anche ripescare delle immagini che venivano utilizzate tantissimo nel 2012 nel 2013 ripescate e riutilizzate in modo diverso e anche ovviamente ironizzando sul fatto che sono meme vecchi poi ovviamente come sapete c'è sempre poi questa specie di dialettica tra i cosiddetti normi quindi c'è il discorso della normificazione dei meme quindi c'è anche questa dialettica tra quelli che teoricamente sono quelli che li creano e fanno quelli più edgy e quelli che invece semplicemente li rubano li portano su facebook e poi li normificano e poi non fanno più ridere eccetera ma questa è una storia complicata però non so diciamo che il ciclo insomma sì hanno dei cicli di vita particolari insomma sì tra l'altro proprio oggi vedevo la Tassoni che ha riportato in voga appunto la Vaporwave diciamo e molti utenti prendevano in giro Tassoni che diceva che siamo tornati nel 2015 nel 2014 con sta Vaporwave e infatti in chat c'era Federico che diceva interessante notare come ci sia voluto tanto a capitalizzare i meme mi vengono in mente i vari cioè collegandosi alla cosa mi vengono in mente i vari social media manager dell'azienda che solo in tempi più o meno recenti rispetto alla storia dei meme hanno sfruttato la potenza dei meme per fare pubblicità o meglio saputo sfruttare beh vabbè ci mettono sempre un po' per arrivarsi sì anche perché poi questa è una cosa che in generale caratterizza ha caratterizzato anche in passato il rapporto tra le culture appunto tra virgolette dal basso e poi invece l'industria culturale l'industria in generale anche il mondo della moda cioè la moda pure si appropria continuamente di stili e estetiche che nascono in strada da virgolette ma ci hanno un tempo per arrivare non è questo tempo è sempre più breve devo dire ci arrivano sempre più velocemente a saccheggiare certe cose però è vero che c'è anche un tempo poi nel caso che faceva nell'esempio che faceva lui c'è anche da dire che il social media manager deve anche ha in genere il compito di parlare con più gente possibile potenzialmente quindi questa cosa è anche successa in un momento in cui i meme cominciavano a essere capiti da più persone c'è stato un momento in cui secondo me anche non sarebbe stato forse tanto utile utilizzare i meme per comunicare con le persone adesso invece sono una cosa talmente utilizzata in qualche modo capita e amata dalle persone che è anche più funzionale quello che devono fare sì a proposito poi appunto della cioè della temporalità dell'essere sempre perennemente sul pezzo quindi della velocità di propagazione anche dei meme e delle immagini in generale su internet oggi appunto tu nel libro riporti l'esempio di alcune di alcuni utenti o anche vignettisti professionisti possiamo dire che appunto per comunicare semplicemente utilizzano dei programmi molto basici per per fare delle vignette o qualcosa appunto che può essere serio o meno serio e quindi appunto per stare nel dibattito e quindi qui entra in gioco appunto la bruttezza no nel libro tu riporti l'esaltazione della bruttezza e appunto ce ne vuoi parlare cioè appunto quanto come l'estetica è cambiata come effettivamente da quello che è fatto bene ecco è visto come inautentico mentre appunto l'autenticità si è spostata nel grezzo nel nell'amatoriale nel veloce sì sì no è vero c'è un un paragrafo che si chiama proprio questo si chiama proprio così cioè l'estetica del brutto mi pare si chiama così una cosa del genere si chiama come l'avevo chiamata certo che però vabbè insomma quello là quale paragrafo era ricordi la celebrazione del brutto ecco come l'avevo chiamata la celebrazione del brutto sì esatto e sì in questa parte il libro parla proprio di quello che dicevi tu ossia dell'emerge di un certo tipo di estetica che predilige la velocità e l'immediatezza e lì preferisce alla come dire all'estrema qualità dell'immagine all'estrema definizione dell'immagine all'estrema cura nella confezione del del contenuto quindi anche nella raffinatezza eccetera e ci sono stati scritti tanti saggi su su questo tema ed è senz'altro vero che internet ha portato alla ribalta sempre più spesso questo tipo di estetica ci sono vari motivi che possono essere analizzati per questa cosa da un lato c'è il discorso della banalmente del fatto che tantissime persone partecipano alla conversazione e non tutte queste persone hanno delle capacità tecniche questo è il livello base proprio cioè il livello base del discorso cioè c'è un punto che riguarda il fatto che non tutti siamo in grado di utilizzare bene i programmi di grafica piuttosto che disegnare bene piuttosto che fare fotografie bene eccetera e di conseguenza un primo livello dell'analisi è questo cioè siamo tantissimi a partecipare alla conversazione non tutti siamo dei professionisti o quantomeno abili a usare certe cose questo è il primo livello ma questo è proprio il livello base perché in realtà i due livelli più interessanti riguardano da un lato la velocità della conversazione perché online la conversazione è sempre molto veloce e si sposta continuamente da un oggetto all'alto da un argomento all'alto una situazione all'altra quindi spesso non c'hai il tempo di metterti a lavorare su un prodotto super raffinato perché altrimenti arrivi in detardo e non riesci a partecipare quindi molte cose vengono anche fatte in maniera veloce perché si vuole passare il concetto non interessa fare la cosa super raffinata va bene anche un fotomontaggio fatto malissimo però rende l'idea e entra nel flusso della comunicazione questo è un altro livello un altro livello ancora è come dicevi te legato al concetto di autenticità è vero anche che le cose troppo patinate si portano un po' il sospetto dell'adulterazione dell'inautenticità della manipolazione del fatto di provare è come il meme expectation and reality avete mai visto quando mettono due cose a confronto è quella cosa lì quindi si tende ad associare a delle immagini a delle fotografie a delle cose fatte un po' più male un po' più così come vengono in un grado di verità e di realtà di aderenza alla realtà maggiore rispetto a un'immagine molto studiata molto patinata molto corretta eccetera quindi questo è un altro livello ancora e questa anche predilezione per diciamo il dare più attenzione al messaggio che alla confezione del messaggio pure è molto interessante secondo me questa cosa riguarda un discorso sulla risoluzione alta risoluzione bassa risoluzione anche lì è un discorso politico nel senso che la bassa risoluzione è un non è semplicemente un ripiegare su la bassa risoluzione perché non posso accedere all'alta è anche una scelta politica di muoversi all'interno di un mondo fatto di immagini meno definite ma più accessibili sia in senso pratico ma anche filosofico quindi è anche un discorso legato alla contestazione del copyright alla contestazione diciamo dell'ostrapotere dell'industria della cultura eccetera anche perché siamo abituati a questo standard di bassa risoluzione fondamentalmente cioè online anzi cioè trovare qualcosa che sia fatto perfetto esteticamente eccetera eccetera viene subito attribuito a qualcosa di altro di diverso da quella che è appunto la maturità su internet e quindi la creazione collettiva anche poi in questo senso ovviamente tu parlavi di bassa risoluzione alta risoluzione anche se comunque tutto il discorso sull'alta risoluzione comunque in un certo senso viene cioè ce ne si riappropia anche attraverso l'utilizzo mi viene in mente delle sperimentazioni in 3D quindi dell'iper realtà in questo senso quindi utilizzare sempre quello strumento per creare nuove pratiche nuove sperimentazioni che fruiamo ovviamente quotidianamente sì quella è la domanda nel senso sono d'accordo riflessione rispetto è stata molto esauriente per quello dicevo non non come ha spiegato lei a posto tuo come integrato va bene ho letto e ho capito il libro vedi quindi con molta attenzione ti ringrazio però volevo dire volevo buttare in mezzo questo argomento dato che prima parlavamo di nonsense c'è però anche un altro elemento importante che prende piede quasi come nonsense cioè appunto il word no? dicevamo no come appunto le immagini cursed eccetera ad esempio su tiktok adesso c'è questa esperienza che si può in un certo senso descrivere come l'horror che si si integra attraverso il social appunto dei profili cursed che appunto tiktok funziona che ti escono video totalmente a casa ovviamente in base alle tue interazioni eccetera però può capitare che ti escano dei video decontestualizzati senza tag eccetera e questo è questa ormai da un po' di tempo questa divisione tra lo straight tiktok e l'alternative tiktok vedi tutti i video dei balletti charlie d'amelio eccetera se invece sei nella alt tiktok ti capita di vedere i video con questi filtri tipo meme fritti tutti quanti rossi tutti quanti rossi e appunto cursed meme cursed video che cioè a volte magari tu sei così stai scorrendo boh vedi un video di gattini ti ritrovi questo con la faccia spalmata così cioè in quel momento è inquietante anche perché poi più interagisci più ovviamente l'algoritmo ti presenta immagini del genere quindi questo attaccamento e anche l'algoritmo è un po' di coccio perché nonostante tu io un periodo mi ci impegnavo a cercare di orientare l'algoritmo con i like le cose le visualizzazioni però niente cerca sempre di riportarti nello straight tiktok è un po' meno algoritmo cerca tutti i casi di portarti dall'altra parte no sì è vero ma il fenomeno delle curse images è molto interessante secondo me perché sono delle immagini cursed vuol dire letteralmente maledette quindi sono delle immagini molto strane di cui non si conosce l'esatta provenienza quindi si perde completamente il contesto questa è un'altra cosa che succede spessissimo con le immagini su internet non capisci da dove viene è stata scattata perché quindi la reazione che cazzo abbia visto e la maggior parte delle volte hanno questo sì questo mood un po' da film horror in bassa risoluzione ed è interessante il fatto che non sono soltanto delle immagini appunto virali ma sono delle immagini maledette che significa che in teoria dovrebbero essere portatrici di una specie di maledizione come succede in addio non mi viene il nome del film aiutami esatto se tu vedi l'immagine in qualche modo sei fregato non puoi più disvedere l'immagine ormai l'hai vista l'unica cosa che puoi fare è appunto cercare di trasferire la maledizione su qualcun altro passando avanti l'immagine a qualcun altro quindi il concetto di viralità si trasforma in un concetto di maledizione quindi ti rimane ovviamente una cosa metaforia per dire quella cosa ti rimane nel cervello e ti può in qualche modo cercare perché tu è una specie di incubo materializzato in un'immagine lì però anche il discorso della bassa risoluzione è molto importante perché proprio per queste foto sono sempre un po' sgranate sembrano scattate in uno scantinato con poca luce con delle creature che non si capisce bene che cosa sono e appunto con tutti i pixel in vista eccetera aumentano la sensazione di inquietudine diciamo queste immagini tirano fuori e poi addirittura nel forum quello di Reddit dedicato alle cursed images qualcuno giustamente ha detto più la fotocamera è una merda e più c'è la possibilità che si possa essere messo in contatto con un layer paranormale con una parte di mondo che non riusciamo a vedere quindi è anche interessante questa idea che le tecnologie possano fare da come dire da da tramite da tramite da medium nel senso vero del termine tra questo mondo e l'altro e poi è anche un gioco cattivello di passare ad altre persone delle immagini che non vorrebbero vedere infatti la definizione più efficace delle cursed images sempre trovata su quel forum è quella dell'admin del forum che dice le cursed images sono delle immagini che non dovrebbero esistere questo è la tua cosa di funzione infatti penso che sia perfettamente adatta tra l'altro dalle cursed images nascono anche le creepypasta come citava Alessandra in chat che appunto c'è storie su storie su storie di paranormale fatti di internet visti sotto questa chiave nati magari da un'immagine che è circolata penso allo slenderman magari che appunto oggi ci fanno anche il progetto di smen quello di andrea anche quello è un caso di studio molto interessante di progetto artistico che praticamente si trasforma in una specie di leggenda urbana e arriva ad essere riutilizzato e appropriato dal santone indiano piuttosto che dall'adolescente giapponese piuttosto che dai produttori di X-Files quindi talmente trasversale poi l'utilizzo che di questa immagine poi hanno fatto il resto del mondo da creare questa situazione in cui l'autore non è più in grado di gestire niente di controllare niente perché siamo attratti da questo tipo di immagini cioè vabbè tu fai una riflessione in vari capitoli che ovviamente riguarda vari aspetti ecco della questione però appunto ha ovviamente a che fare anche magari con la dissacrazione stessa dell'arte e niente perché siamo attratti da questo tipo di immagine da questo tipo di estetiche perché generiamo queste cose su internet penso anche allo shitposting eccetera ma c'è secondo me molta cioè in tanti casi internet viene utilizzato e visto e interpretato nel bene e nel male come un luogo in cui si possono rompere le regole sociali molto di più rispetto a quello che può succedere in situazioni diverse insomma in luoghi della vita quotidiana di altro tipo quindi sul lavoro piuttosto che la scuola piuttosto che in altre situazioni sociali e questo porta alla produzione e alla circolazione di contenuti spesso appunto più scorretti più forti più ambigui più volutamente scorretti volutamente polemici volutamente brutti volutamente di come dire di rottura di polemica eccetera perché c'è questo fattore insomma secondo me che da un lato è molto interessante dall'altro ovviamente ci espone potenzialmente a qualsiasi cosa però il lato interessante è che sempre più persone percepiscono alcuni spazi della rete non tutti ovviamente però alcuni spazi della rete come degli spazi in cui più soprattutto quelli in cui è possibile essere anonimi è possibile in qualche modo rompere le regole sociali e tirare fuori anche degli aspetti meno composti della nostra identità della nostra dei nostri gusti della nostra vita eccetera poi nel libro a un certo punto butto lì un paragone tra l'atteggiamento dei dataisti nella prima guerra mondiale perché ovviamente tutto questo emergere di queste attitudini di questi gusti eccetera anche molti di questi gesti insensati ci ricordano tantissimo cose che abbiamo già visto nella storia e sono secondo me inevitabilmente delle reazioni al momento storico anche in cui stiamo vivendo in un momento storico in cui abbiamo la sensazione di riuscire a incidere sempre meno e di avere sempre meno strumenti per nonostante appunto la retorica sulla partecipazione la democrazia diretta e compagnia bella però invece ci sentiamo secondo me molto importanti rispetto a una situazione politica e sociale anche ecologica estremamente preoccupante ci sentiamo tutti un po' alle soglie dell'apocalisse non è un caso che negli ultimi anni questo tema della fine del mondo sia stato così centrale nel dibattito culturale perché ci sentiamo un po' alle soglie dell'apocalisse e questa cosa secondo me viene percepita a livello generale e innesca anche questa serie di alcuni comportamenti che sono una reazione spontanea una specie di riflesso condizionato a volte inutilista a volte semplicemente come gesto liberatorio di non-sense come risposta all'assurdità del mondo che appunto era quello che per alcuni versi simili facevano i dataisti durante la prima guerra mondiale che se ne stavano in Svizzera nell'unico paese neutrale d'Europa quindi in qualche modo al sicuro però circondati dall'Europa in fiamme e tutta la poetica dataista si basa su questo cioè sulla consapevolezza di non essere in grado di produrre senso all'interno di questa cornice e quindi di produrre oggetti insensati di produrre discorsi insensati di gettarsi a capofitto nell'assurdo nel nonsense perché è come mettersi a fare appunto il balletto di TikTok davanti a una è un po' la stessa cosa sì nel libro riporti anche che appunto il bombardamento di immagini che ogni giorno subiamo attraverso i social network eccetera eccetera appunto ci regala anche una sensazione di eterno presente no? quindi questo eterno presente di conseguenza è come se in qualche modo ci facesse sentire bloccati in un frame al quale noi dobbiamo rispondere sentiamo il dovere la necessità impellente di rispondere appunto poi come dicevi tu col no sense col cursed e quant'altro e un'altra cosa secondo me un'altra cosa forse non lo so però questa è un'ipotesi però secondo me è una cosa su cui potremmo anche riflettere che questa cosa dell'amore appunto per il weird ma anche per lo strano per il non convenzionale eccetera è anche il risultato del fatto che negli ultimi anni si è allargata in maniera esponenziale la nostra conoscenza dell'altro in generale cioè noi attraverso internet siamo in grado di venire a contatto con una quantità stratosferica vertiginosa di persone diverse culture diverse esperienze diverse gusti estetiche eccetera talmente diverso e talmente ogni giorno scopri una cosa assurda che non conoscevi che per te è completamente lontana dal tuo mondo e questo ha anche sdoganato un po' il concetto di diversità anche se ovviamente poi c'è devi pure essere disposto ad andare a cercare queste cose e a incontrarle però se sei aperto e non usi solo facebook come esperienza della rete quindi sei anche in qualche modo aperto a esplorare questo mare magnum di cose che puoi scoprire utilizzando la rete anche al di fuori delle piattaforme più utilizzate che anche in qualche modo orientano quello che vedi ecco internet ti dà la possibilità di fare di questo faccia a faccia continuo con il diverso con l'assurdo con le cose che per te sono completamente anche con il con l'incredibile infatti c'è questa tendenza di portare di scambiarsi cose sempre più strane cose sempre più particolari perché in qualche modo abbiamo anche preso gusto a questa cosa di trovare la diversità lo strano secondo me sì infatti penso che per per alcuni alcune sia magari l'esperienza il fruire internet dipenda anche da questo l'essere su internet dipenda anche da appunto da questo dal dal rapporto con quello che è diverso con quello che non è mainstream quindi i normi e quindi da da rigettare assolutamente la vertigine del freak ce l'abbiamo anche un po' radicata da sempre e poi attraverso la rete viene potenziata all'ennesima potenza cioè sì vabbè sì sono d'accordo che non è una fascinazione del tutto nuova però sicuramente internet ha dato un po' una bella accelerata a questa cosa perché appunto con la possibilità di poter entrare in contatto e quindi essere influenzati oltre sembra il mio cane questo solo che il mio è nero ma insomma più o meno anche Nisi potrebbe essere è un grandissimo meme anzi quindi la possibilità dicevo di essere influenzati perché anche di questo si tratta che appunto assorbire influenze che senza la rete non sarei stata in grado di intercettare in qualche modo però dico più volte nel libro e credo fermamente che l'animale totem del web sia il gatto però nonostante questo abbiamo anche tanti esemplari di cani importanti no? si si assolutamente il gatto ovviamente è l'animale protettore il santo padrono dell'internet però i cani non scherzano comunque si se la giocano se la giocano ecco qui ecco lì ha dei gattini ha un gattone si viaggiato effettivamente l'immagine più perturbante che tu potessi trovare da mettere sulla copertina di un libro devo dire è stata una cosa fortemente voluta da me e da Valerio Mattioli di Nero che ci hanno schierati per questa scelta che ovviamente poi hanno ceduto perché ci siamo proprio battuti molto però perché da un lato è stranissimo è un po' cioè se lo conosci se non lo conosci veramente non capisci che cosa diamine sia un gatto con due zampe sole senza orecchie e in più è un'immagine per tornare al discorso con bassa risoluzione è un'immagine che originalmente avrà pesato 20k e quindi il grafico mi voleva uccidere penso infatti sì ho notato la sgranatura enorme sopra la copertina a quel punto ci siamo arresi al pixel e abbiamo detto sgranato sia non era recuperabile a meno di fare tutto quanto che ne so un po' patinato così diventava un po' però insomma ci piaceva per un sacco di motivi perché racchiude a parte il fatto che esce da questa porta così sembra proprio come dire che arriva da un altro mondo perché chiaramente è una creatura degli inferi il mezzo gatto non è che ci sono molti dubbi su questo viene da un altro mondo e in qualche modo arriva a disturbare una situazione altrimenti tranquilla che è un po' l'idea del libro cioè il fatto che ci sono degli elementi che vanno a rompere degli equilibri precedenti e poi ci piaceva anche perché è un po' cioè simboleggia un po' un sacco di cose da parte appunto il gatto che è una figura particolarmente rilevante nella web culture è un po' è un gatto mostruoso e quindi evoca tutti i discorsi che abbiamo fatto adesso sul weird sulla manipolazione eccetera e quindi ci sembrava particolarmente adatto in più è un'immagine a bassissima risoluzione è veramente più bassa di così non si può e quindi ci sembrava perfetto per l'occasione anche se ovviamente la copertina ha diviso in due cioè o la amano o la odiano con tutte le loro forze noi la amiamo a noi piace tantissimo voto 10 la maggior parte delle persone con cui ho parlato anche perché magari non me lo vengono a dire a me perché non sono così coraggiosi però la maggior parte della gente è piaciuto però ci sono pure un bel po' di gente che mi ha detto oddio questa copertina è terribile cosa sarebbe dovuta mettere in copertina quindi non c'era niente la dubbia cioè nonostante avessi a disposizione tramite appunto la raccolta il database del wall of memes qualcosa come 10.000 immagini quella mi è sembrata l'unica giusta che descrivessi appunto appieno tutto il libro abbastanza bene ok ma noi abbiamo altre domande da fare altre domande riguardo al libro saprei in chat c'è qualcuno qualcuna se in chat ci sono domande ovviamente fatele così concludiamo con le vostre domande spero che tu ti sia divertita qui su twitch sul social dei zoomer il social più zoomer della ora in circolazione insieme a tiktok ovviamente in questa in questo layout fluido mi trovo mi trovo benissimo a quest'ora comincio a essere un po' cotta mi sono alzata un orario improbabile però no no assolutamente infatti ecco però però ci sono se avete qualche domanda sono a disposizione ma allora noi non credo credo che si è insaurito abbiamo parlato veramente di tutto siamo rimbalzati da una parte all'altra del libro sì un chat appunto una domanda tecnica cosa ne pensi del meme loss non lo so se l'ho capita forse mi manca il meme loss il meme loss dovrebbe essere quello che se non sbaglio non voglio sbagliarmi quello del mettere le cose no forse la fine no forse è quello no è quello della vignetta con il tipo nell'ospedale quella lì no ho capito male loss il meme loss sì sì è quello che dicevo io cioè delle immagini verticali le due immagini verticali uno orizzontale che poi vabbè si è memato molto con il l'algoritmo di facebook che censurava sì sì era quello che dicevo io sì sì ok 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 vabbè non è uno dei meme che conosco meglio però ovviamente l'ho visto mi ci sono mi ci sono imbattuta varie volte ed è uno dei più sofisticati nel senso che è uno dei meme spesso di quelli che se non hai il background non riesci assolutamente a capire che cosa stia succedendo ed è stato tra l'altro rielaborato in modi anche estremamente concettuali insomma ce n'era uno soltanto con delle linee non so se non ricordavo solo linee verticali in un altro che lo riconoscevi dalla palette così però insomma lì dovevi essere proprio molto attento alla conversazione dei meme però non è appunto non sono una grande esperta di questo meme però sicuramente è interessante per quel poco l'ho intercettato però ci vuole dire di meta meme non è la vignetta da essere importante ma il meta meme cioè riprodurre sempre quello stesso sistema di orientamenti infatti dicevo con l'algoritmo di facebook censurava perché riguardava per l'11 settembre quindi è stato anche appunto riprodotto in chat bene castelluccia è top mimatrice vabbè dai è famoso comunque quindi ok quindi meme preferito avevi già risposto la ragazzina con non ho tantissime sicuramente sì la disaster girl è una dei miei preferiti però sono talmente tanti che mi viene molto difficile da rispondere francamente non lo so quello sicuramente è uno dei miei preferiti di sicuro è la mia sicuro però non so ne ho veramente ne ho amati tanti come tutti insomma quelli che seguono il panorama però comunque se volete vedere avere un'idea basta che guardate su create wall of memes li ho collezionati gelosamente tutti quanti quelli che mi sembravano interessanti ah io intanto rimando il link sia del libro ecco allora se volete acquistare meme estetica potete acquistarlo qui al link che vi stiamo mandando in chat poi appunto intanto Entira ci mostra le sue bellissime figure ma per chi perdo sempre dov'è sì è tipo qui poi c'è il suo appunto la sua raccolta the great wall of memes dove potete appunto vedere anche i suoi meme preferiti in continuo aggiornamento sì sì e poi e infine il suo sito internet dove è possibile trovare i vari progetti ok sì quindi che dire come dico ogni volta che che dire grazie acquistate meme estetica di Valentina Tanni uscito per Nero Edizioni grazie mille a Valentina per la sua disponibilità ma forse c'è una domanda non lo so c'è una domanda non riesco a capire se il meme dei buff toots on laptops sia una critica alla mascolinità tossica o una celebrazione di quella tipica se lo conosci che ne pensi allora magari l'ho visto non so il nome quindi lo cerco un attimo aspetta perché il titolo non lo conosco però magari magari ho visto la foto aspetta ecco ok io sono l'autopsi ok ho capito ah ok sì sì l'avevo senz'altro visto tu dici una critica alla mascolinità tossica o una celebrazione di quella tipica questa è una bella domanda sì sì l'avevo visto è bellissimo secondo me è molto ambiguo e dipende molto da come lo declini vedo che ce ne sono un sacco e anche montati in maniera differente per cui secondo me credo così a istinto però è una risposta del tutto istintuale che originalmente fosse una critica alla mascolinità tossica però non credo che sia sempre stato poi declinato in quel modo quanto è grosso Diucane sì enorme però appunto faceva ridere come qualcuno come Federico riportava in chat cioè il palestrato che rispondeva ad un'affermazione se sì sta ricostruendola poco alla volta appunto rispondendo punto per punto questo umone super palestrato da costare da costare appunto dei da costare delle cose che sono totalmente incongrue e che non hanno come dire nessuna relazione tra di loro molto lontane come mondi è uno dei meccanismi più tipici e più efficaci no? Per esempio nel libro parlo dei meme quelle di Onibubu che sono un po' vecchi però sono molto efficaci questa ragazzina americana che adesso ormai è anche cresciuta quando circolavano le gif e i meme su di lei era una bambina di 7-8 anni che partecipava ai contesti di bellezza in America in un mondo assurdo e la sua immagine in tantissime gif che si chiamavano Filosofica Onibubu si metteva lei e però gli si mettevano le didascalie con le frasi di Deleuze e Gattari di Adorno ma si fa anche oggi tra l'altro c'è questa pagina che si chiama vabbè a parte che lo fanno in molti però proprio mi viene in mente questa pagina che si chiama Foto di Influencer con citazioni di Mark Fisher e poi ci sono tutte le foto degli influencer sopra citazioni a caso miste di Mark Fisher c'è anche quella italiana l'angolo del buon umore secondo Bifo non so se la vede sì sì sicuramente questa cosa del clash del contrasto infatti Federico dice non penso sia una questione ideologica ma è solo un luogo degli opposti sicuramente questo è un è sicuramente il meccanismo centrale di questo genere di immagini poi è difficile risalire a quelle che erano le intenzioni originarie di chi ha creato il meme la prima volta però sicuramente il messaggio e l'impatto è dovuto a questo contrasto e poi il contrasto tra due realtà e anche un po' il meccanismo della sorpresa è il meccanismo a base dello humor cioè funziona a volte anche le barzellette funzionano così con questo meccanismo ti fa ridere perché la situazione è assurda incongrua ha senso e quindi fa ridere per questo che poi in generale non credo che sia molto importante nei meme capire quale sia quale siano state le intenzioni di chi ha diffuso per primo quel meme piuttosto come quel meme viene declinato perché io chiaramente posso prendere anche un meme appunto che viene declinato come erano quelli vabbè del Chad vabbè anche Chad The Chad and The Virgin questi meme molto popolari negli ultimi tempi cioè che comunque poi vengono nascono in un modo poi appunto ce ne si riappropia e si trasformano in qualcosa di totalmente diverso quindi alla fine il processo è sempre in in evoluzione in espansione e un meme anche sessista può essere utilizzato per esprimere un concetto totalmente diverso come diceva Federico proprio per la natura anarchica universale dei meme l'ideologia non ce la riesco a vedere eh sì cioè magari c'è nell'intenzione di un singolo meme o di un singolo autore oppure ci sono anche dei casi in cui un certo meme in qualche modo rimane più da un lato e in qualche modo sono più eh allineati come significato però è anche vero che invece nella maggior parte dei casi è più prevale quella che chiama la natura anarchica quindi prevale questa oscillazione del significato certo grazie a te outside per la domanda eh ok ci salutiamo quindi ci salutiamo ma considerate sempre che io sono cioè una storica dell'arte no no nel senso che io sono una storica dell'arte come dire poi deviata sul mondo quindi non è che sono proprio espertissima di meme però insomma negli anni mi sono appassionata di un po' di cose poi le ho nasci dallo studiare Caravaggio a studiare poi appunto il gattino il gattino così è un bellissimo percorso comunque te lo invidio assolutamente vogliamo andare sul weird più estremo io ho cominciato l'università facendo storia dell'arte medievale quindi che fra l'altro le immagini medievali appunto se non sbaglio potrebbe uscire da una miniatura medievale da un basso rilievo anche le miniature medievali appunto sono diventate meme poi appunto per loro quindi c'è un collegamento a tutto alla fine forse sì hai fatto il giusto percorso allora assolutamente se si può collegare in qualche modo se vogliamo cercare una strada alla fine hai fatto il giro lungo o meglio penso che l'ideologia possa essere solo quella maggioritaria tipo Chad a diversi connotati ideologici totalmente opposti a quelli femministi per lo più della gerarchia sociale della mascolinta certo poi chiaramente se un certo meme viene interpretato in un modo dalla maggioranza è chiaro che quella stessa interpretazione si imporrà sul dibattito però niente vieta di riprenderlo di riprendere rimixarlo modificarlo anzi ci sono tanti gruppi magari su facebook eccetera dove appunto si studia proprio questa modifica tpm un gruppo facebook che studia penso tu lo conosca Valentina che appunto studia ovviamente esistono tantissime persone tantissimi gruppi di studio e corsi universitari ormai diciamo che è riconosciuto grazie a Dio come un oggetto di studio a tutti gli effetti quindi ci sono magari da noi un po' in meno però comunque qualcosa si sta muovendo anche da nostre parti però insomma a livello globale esistono moltissimi studi anche molto approfonditi sulla cultura dei meme sono usciti molti libri anche interessanti beh perfetto quindi direi che stavolta ci salutiamo e quindi stavolta stavolta cioè nel senso abbiamo detto più volte è perché ovviamente se arrivano domande poi sono arrivati vari spunti e vabbè giustamente ok va bene allora ci salutiamo ci vediamo lunedì qui per la nostra solita puntata del lunedì del lunedì su attualità eccetera e grazie mille a chi ci ha seguito grazie mille ancora a te Valentina grazie mille se vuoi dire qualcosa non so no penso penso che ho parlato abbastanza ok per cui non so però è stato divertente per me l'estato e ci fa molto piacere ci fa molto piacere buonanotte acquistate meme estetica e fate meme estetica e diventate memeers anche voi buonanotte buonanotte ciao buonanotte